Da Vintage acquisto il mese della prevenzione. Tieni sotto controllo la vista dei tuoi bambini. Prevenire è meglio. Effettua una visita oculistica. Porta la prescrizione del medico nel nostro negozio e riceverai in omaggio le lenti 100% italiane con protezione dalla luce blu emanata dai dispositivi elettronici, cellulari, computer, tablet e non solo. Noi ci teniamo davvero al benessere dei tuoi occhi. Vintage. Ci trovi ad Adrano in via Cappuccini 46. Promo valida fino al 31 ottobre 2024. A prensione questa mattina ad Adrano investito pedone da un'auto all'incrocio tra via Catania e via 4 Novembre. Ferito un anziano. Oggi nella chiesa di San Paolo di Adrano è stato accolto il vicario parrocchiale padre Tony Milazzo. Ieri sera nella chiesa del Rosario di Adrano è celebrato una messa in occasione dei 100 anni dell'ordinazione sacerdotale di don Antonino Lamela toccanti le testimonianze per ricordare il Don Bosco di Adrano. Voto provincia in Sicilia e polemiche scontro tra partiti. Corsaro dell'Anci dice troppe lacerazioni, le riforme non si fanno per calcolo politico. Il comune di Ragalno organizza i mercatini autunnali e riceve una troupe del programma Mela Verde di Canale 5 che racconterà il territorio e gli eccezionali frutti che produce. Anche questo weekend ha cesarò promozione del territorio con la sagra del suino nero e del fungo porcino de Nebro di domani l'atteso concerto dei Mattia Bazzar. Detenzione e fini di spaccio con questa accusa a Catania i carabinieri hanno arrestato un 38enne che stoccava la droga a San Cristoforo per venderla a Nesima. Pulizia del litorale sabbioso della playa di Catania questa mattina nell'ambito dell'iniziativa Amiamo il Mondo diverse tonnellate di rifiuti sono state raccolte separate e avviate in discarica. Sport nel campionato di Serie B di calcio a 5 ostica trasferta per l'Adrano a Barcellona Pozzo di Gotto nel campionato di seconda categoria la dranitana affronta la Itna Pedara. Si intitola Trust No One il singolo d'esordio di Emilio Chiaramonte in arte Lio giovane cantante catanese che debutta per la prima volta sulla scena musicale. Buonasera, nuova edizione con TVA Notizia apprezzione questa mattina ad Adrano investito pedone da un'auto all'ingrocio tra via Catania e via 4 novembre ferito un anziano sentiamo. Momenti di apprezzione questa mattina ad Adrano per un pedone investito da un'autovettura è accaduto esattamente all'ingrocio fra via Catania e via 4 novembre un anziano mentre attraversava la strada è stato leggermente urtato da un'auto che stava transitando con velocità moderata l'automobilista ha tentato di evitarlo ma l'uomo è caduto per terra riportando delle ferite e perdendo sangue è stato soccorso dallo stesso automobilista e da una pattuglia dei carabinieri quindi l'intervento del personale sanitario del 118 che dopo le prime cure sul luogo dell'incidente ha trasportato il ferito con l'ambulanza all'ospedale di Biancavilla per gli accertamenti del caso sul posto anche agenti della polizia di stato e della polizia locale quest'ultimi stanno ricostruendo quando è accaduto restiamo ad Adrano oggi nella chiesa di San Paolo è stato accolto il vicario parrocchiale padre Tony Milazzo per lui anche una speciale lettera sentiamo oggi nella chiesa di San Paolo di Adrano si è svolto il consiglio pastorale parrocchiale straordinario durante il quale è stato accolto il nuovo vicario parrocchiale padre Tony Milazzo che affiancherà il parroco padre Nicola Pedraria padre Tony è stato accolto con grande affetto per lui anche una speciale lettera di Paolo dell'Elba sentiamola carissimo don Tony oggi la comunità parrocchiale di San Paolo in Adrano è molto contenta con l'aiuto del buon Dio di accoglierla in questa nuova missione che il Signore ti ha fidato ringraziamo anche Sua Eccellenza don Luigi Renda per averti dato l'incarico come dice parroco in aiuto al nostro parroco Don Di Poco Pedraria carissimo don Tony con l'aiuto del Signore e il servizio da Lui affidati diventi per noi un momento forte di crescita spirituale per l'annunzio del Vangelo abbiamo bisogno di una guida che lavori insieme al parroco e ci faccia continuamente riscoprire il senso di essere figli di Dio ma soprattutto aiuti i giovani in questo momento così delicato ad avvicinarsi a Dio ci riempie il cuore per averti qui con noi ti diamo il benvenuto in questa comunità che oggi ti appartiene ed ora con l'aiuto dello Spirito Santo siamo pronti per poter dire insieme eccoci siamo pronti Signore a seguirti dove tu vorrai ti vogliamo bene ieri sera nella chiesa del Rosario di Adrano celebrato una santa messa in occasione dei cento anni dell'ordinazione sacerdotale di Don Antonino Lamela toccanti le testimonianze per ricordare il sacerdote definito il Don Bosco di Adrano vediamo a 48 anni dalla morte è sempre vivo il ricordo di Don Antonino Lamela il sacerdote Adranita che ha dedicato tutta la sua vita per servire gli altri l'educatore che ha lasciato il segno in diverse generazioni di giovani il prete umile sempre con il pensiero rivolto ai poveri per tutto questo padre Lamela è stato definito il Don Bosco di Adrano ieri sera una santa messa è stata celebrata nella chiesa del Rosario di Adrano in occasione dei cento anni della sua ordinazione sacerdotale la messa è stata ufficiata a Don Salvatore Cubito il rettore del seminario interdiocesano di Catania presenti con Don Antonino Portale i familiari di padre Lamela i rosariani di ieri e di oggi il gruppo scout e altri ancora tutti insieme in nome di una delle figure più amate dalla comunità adranita la presenza di padre Lamela ancora oggi è quotidiana ad Adrano non solo perché a lui è stata intitolata anche una squadra e una scuola ma perché il sacro fuoco della bontà che ardeva dentro di lui è sempre alimentato dal ricordo delle sue opere materiali e spirituali ricordare padre Antonio Lamela è più che altro che lui in quanto persona la sua esperienza la sua vocazione oggi ricordiamo i cento anni di ordinazione di ordinazione presbiterale ma prima dell'ordinazione c'è stata una formazione una vocazione la vocazione al presbiterato e diciamo che questa vocazione al presbiterato padre Lamela non l'ha vissuta tanta serena tanta tranquilla perché entra in seminario poi scoppia la prima guerra mondiale e come giovane italiano come giovane seminarista parte in guerra ma non è stata la guerra non sono state le armi a bloccare la sua vocazione anzi in quel momento tragico di sofferenza che la guerra ha avuto modo ancora di più di approfondire di sentire quella voce di Dio che non lo chiamava soltanto a diventare sacerdote ma un sacerdote missionario per la cura e l'educazione dei fanciulli dei giovani quindi da un momento tragico lui ha saputo trarre la speranza della resurrezione del Signore quindi questo che celebriamo oggi Dottore Pippo Reina Rosariano Doc ha un ricordo molto vivo di Don Antonino Lamela la sua grandezza d'animo come la possiamo spiegare in poche parole la sua grandezza d'animo praticamente era la semplicità e la povertà tutto quello che lui aveva di suo di proprietà sua praticamente la spesa per i poveri e poi invece nella sua semplicità stava nel fatto che per esempio quando lui faceva il catechismo dei bambini sotto l'altare della Madonna o di Santa Teresina di Gesù era capace di trarre da fatte di guerra per cui lui partecipò alla prima guerra mondiale traeva da fatte di guerra poi alla fine un insegnamento di tipo cristiano che dava ai ragazzi Senta c'è un fatto emblematico che racconta cosa era padre Antonino Lamela le scarpe un giorno qualcuno regalò delle scarpe a lui e lui cosa fece? Allora questo è un aneddoto che in effetti è successo veramente gli furono regalate delle scarpe nuove e quindi chi è che gli era regalò che poi era la sua viccia zia che badava diciamo nella sua vita normale gli chiesto dice Nino ma dove sono le scarpe che ti abbiamo regalato e lui ha detto c'era un poverero che ne aveva bisogno e gli ho dato io ho avuto il privilegio anche di fare il cherichetto a padre Lamela nel 1971 e gli anni seguenti ancora lui celebrava perché padre Lamela è salito in cielo il 3 settembre del 76 facevamo noi a gara per servire la messa e lui al solito ci diceva andate a prendere un po' di gelsomino per adornare la mensa tanti altri ricordi ci sfiorano venivamo in associazione alle ore 18 ci faceva ricordare sempre le regole dell'aspirante che c'erano dei quadretti messi nel saloncino l'aspirante è leale l'aspirante ama il papa l'aspirante è apostolo tra i compagni non solo quello lui stava seduto qui in una sedia il pallone lo teneva sotto la sedia ma perché perché noi quando ci inghinavamo per prendere il pallone lui ci benediceva e poi ci diceva sempre ma l'avete fatto alla visitina alla madonnina alla padrona di casa allora noi prima di iniziare tutte le attività in oratorio o a giocare a ping-pong o a calcio andavamo in chiesa ma perché lui ce lo suggeriva con grande umiltà ci coinvolgeva era un grande sacerdote mio padre portava il suo nome mio padre si chiamava Antonio Antonino Lamela e ricordo benissimo che molte volte nell'impartirmi l'educazione mio padre prendeva spunto dalle esperienze vissute qui al rosario le esperienze vissute con padre Lamela quindi diciamo che l'elemento importante è stato quello proprio dell'educazione la cosa che mi viene così spontanea dire proprio questo l'insegnamento nel crescere come diceva anche Don Bosco essere bravi cristiani onesti cittadini quindi questo proprio l'educazione il donarsi agli altri altro elemento che mio padre mi raccontava sempre di suo zio Dozzo Parrino ad Adrano lo conosciamo così i momenti caritatevoli che lui con cui lui ha speso la sua vita e devo dire che mio padre non c'è più ho scoperto anche mio padre poi raccontato dalle altre persone che appunto la carità fatta nel silenzio ecco quindi questi gli elementi la carità nel silenzio io da nove anni in voi fino a 18 anni sono stato qui a Rosario insieme a lui e lui era nel pieno della sua grande antività e ci ha lasciato un modo come comportarsi alla vita ci ha lasciato tutto quello che diciamo ognuno e noi ci portiamo dietro ed è quello che lui ci ha donato in questo periodo che siamo stati insieme Cambiamo argomento voto province in Sicilia e polemiche scontro tra partiti Corsaro dell'Anci dice troppe lacerazioni le riforme non si fanno per calcolo politico sentiamo acceso confronto politico in Sicilia sulle ex province in questi giorni in particolare sull'ipotesi di reintroduzione dell'elezione diretta il dibattito su ex province ed enti locali in Sicilia sta generando fin troppe lacerazioni e un certo disorientamento ha dichiarato il sindaco di mister bianco e componente del direttivo di Anci Sicilia Marco Corsaro non solo fra noi amministratori locali ma anche fra i cittadini da sindaco guardo con perplessità un iter legislativo che non sembra seguire una virtuosa logica di riforma e rafforzamento del governo locale ma solo la convenienza elettorale o partitica i cittadini invece chiedono alla politica più autorevolezza e coraggio le riforme si fanno con una visione in testa non per il calcolo politico del momento le elezioni provinciali prosegue l'esponente Anci devono servire a rimettere in piedi gli enti di aria vasta non ad altro ecco perché siamo convinti che il tempo è già ampiamente scaduto si voti al più presto anche con elezioni di secondo livello purché si voti anche la Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte l'indirizzo del Parlamento siciliano lo chiede da tempo anche l'Anci dando voce agli amministratori locali su cui alla fine ricadono enormi responsabilità Adesso parliamo di eventi il comune di Ragalna organizza i mercatini autunnali e riceve una truppa del programma Mela Verde di Canale 5 che racconterà il territorio e gli eccezionali frutti che produce Sentiamo L'amministrazione comunale di Ragalna apre le porte del proprio territorio ai turisti e lo fa valorizzando i prodotti tipici ma anche incentivando il lavoro dei produttori organizzati i mercatini autunnali una chicca la presenza in questi giorni sul territorio per delle riprese dei paesaggi da parte di una troupe di Mela Verde noto programma di un emittente nazionale Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato con i protagonisti dell'amministrazione comunale nell'organizzazione degli eventi e anche nella promozione del territorio con campagne di comunicazione importante Uno degli obiettivi principali del programma è quello di valorizzare Ragalna farlo tramite la valorizzazione del territorio dei suoi prodotti e in tal senso in questi giorni la visita di Mela Verde impreziosisce ancora di più questa mission che vi siete posti Beh sì assolutamente era quello che ci eravamo detti come amministrazione era quello di valorizzare il nostro territorio e le peculiarità del nostro territorio la trasmissione di Mela Verde ovviamente ci mette i riflettori nazionali sulla nostra comunità va ringraziato poi tutto lo staff che mette in prima persona il lavoro per realizzare questa fondamentale comunicazione per rilanciare il nostro territorio questo dei mercatini è un appuntamento importante per la nostra comunità perché mette tanti dei nostri produttori e non solo la vetrina dei nostri prodotti dell'Etna questo appuntamento è diventato fondamentale e quest'anno lo stiamo arricchendo sempre di più con un lavoro straordinario degli assessori che si stanno impegnando in prima persona per rilanciare un mercatino che ci deve vedere protagonisti nel nostro territorio lo stiamo facendo con determinazione e quindi speriamo di avere i frutti che ci siamo ben sperati interesse dell'amministrazione promuovere il più possibile quella che è la produzione territoriale locale infatti abbiamo fatto sì che i mercatini dell'Etna abbiano sempre più riscontro e più successo abbiamo interpellato diversi emittenti e abbiamo avuto anche l'onore di avere mela verde ospite sul nostro territorio per la promozione della produzione della mela sia la gelata cola che la mela deliziosa e quant'altro ci sia sul territorio da poter promuovere ed esportare il nostro territorio è ricchissimo di prodotti diciamo originali ed unici in quanto le proprietà organolettiche dei nostri prodotti non si trovano in nessun altro prodotto e quest'anno stiamo spingendo anche proprio la produzione e la lavorazione della frutta del nostro territorio con la confagricoltura e stiamo cercando di fare inserire in un circuito di mercatini rionali anche il nostro comune di Ragalna per poter far sì di essere una promozione continua e non soltanto limitata a quella che è l'evento dei mercatini autunnali le date sono tutte importanti perché diamo parecchissimo risalto a quelle che sono le pietanze del nostro territorio si partirà domenica 27 dopo domani con la pasta di casa con il sugo dei funghi dell'Etna nella famosa Maida diciamo l'oggetto dove veniva impastato il pane dalle nostre nonne si proseguirà successivamente con la pasta fritta con il sinapo un'erba spontanea della nostra zona e la salsiccia ancora la domenica 10 abbiamo la sagra della salsiccia calice e del vino e poi si proseguirà con le specialità del fritto della nostra zona e inoltre si finirà poi con la sagra della schiacciata e della pizza tradizionale proprio tipica del nostro territorio e con la sagra dell'olio d'oliva giorno 1 di dicembre tutti i prodotti preparati ed elaborati dai ristoratori del nostro territorio che quest'anno hanno deciso di scendere in gambo loro stessi e quindi garantiamo una maggiore qualità e squisitezza dei preparati dimenticavo siete tutti invitati a partecipare ai nostri mercatini in quanto oltre alle deliziose pietanze troverete musica sport e divertimento perché attorno ai mercatini abbiamo creato un circuito escursionistico con dei quad con le bici la città verrà montata la città dello sport ci saranno spettacoli musicali tutte le domeniche quindi vi aspettiamo per rilassarci divertirci e gustare i nostri prodotti dal 27 all'1 di dicembre tutte le domeniche a piazza Cisterna su Ragalna nell'apertura di domenica 27 ottobre appunto la nostra promozione del territorio parte dalla parte più alta e bella del nostro territorio che è il piano vetore per poi passare dall'osservatorio astrofisico dal teseo screpolato che è l'opera di Igor Mitorai che è stata quotatissima quest'anno abbiamo inaugurato lì il coro lirico del teatro di pietra il festival lirico per poi scendere nella parte urbana del nostro territorio che sono i mercatini che quest'anno abbiamo voluto dare una nuova intitolazione che saranno i mercatini dell'Etna e all'interno di questa organizzazione quest'anno l'abbiamo arricchita con una serie di spettacoli e di vento e proprio giorno 27 nella cornice dei mercatini dell'Etna ci sarà un DJ set in apertura di mattina e ci sarà un villaggio dello sport che è una chicca una novità grazie all'associazione Oxain che ci darà tante tipologie di sport per i più giovani e poi per chiudere in bellezza ci sarà Lello Nalfino dei Tintoria che avrà un concerto proprio lì a Piazza Cisterna per rendere omaggio a tutti i visitatori sia di Ragalna sia a tutti chi ci vorrà venire a trovare da fuori paese pertanto vi aspettiamo ai mercatini di Ragalna che quest'anno penso che è una bella organizzazione e adesso una bella notizia che riguarda la famiglia di TVA ieri pomeriggio presso la torre biologica delle università degli studi di Catania la nostra collega Irene Saitta ha conseguito la laurea triennale in scienze motorie Irene dopo aver discusso una tesi di ricerca dal titolo il potere terapeutico della danza esplorazione dei suoi effetti sul benessere è stata proclamata dottoressa in scienze motorie il relatore della tesi è stato il docente Luca Petrigna Adirene Saitta vanno le congratulazioni per il traguardo raggiunto da parte del nostro editore Giuseppe Scarvagieri del direttore di TVA Notizie Salvo Sidoti e da tutto il personale della nostra emittente anche questo weekend ci sarò promozione del territorio con la sagra del suino nero e del fungo Porcino de Nebro di domani l'atteso concerto dei Mattia Bazzar sentiamo un altro weekend per conoscere Cesaro e per apprezzare due prodotti locali di altissima qualità come il suino nero e il fungo Porcino dei Nebrodi prosegue nelle giornate del 26 e 27 ottobre la ventitresima edizione della sagra con nuovi appuntamenti molto attesi oltre a conoscere e gustare le eccellenze locali l'amministrazione comunale ha voluto organizzare importanti appuntamenti culturali di spettacolo per rendere il soggiorno dei turisti e le giornate dei cesaresi che parteciperanno indimenticabili c'è grande attesa per il concerto dei Mattia Bazzar la cui musica è conosciuta e apprezzata in Italia e nel mondo sabato 26 ottobre alle ore 21 presso la villa comunale ciao amici di Cesaro noi Mattia Bazzar vi aspettiamo tantissimi numerosissimi sotto al palco quando? il 26 ottobre il 26 ottobre ricordate numerosi non potete mancare ciao ciao durante le giornate durante le giornate della sagra ci sarà anche una particolare mostra micologica come sempre tanta musica tra le vie di Cesaro tutte da scoprire così come i suoi monumenti e la sua storia lo scorso weekend grande affluenza per lo spettacolo incontri d'autunno di salvo la rosa con manlio odovie atmosfera blu e apprezzamenti generali per l'aria genuina che si respira a Cesaro per come il territorio sa promuovere i suoi prodotti e il suo patrimonio culturale già nel momento del taglio del nastro alla presenza di autorità civili militari e religiose il sindaco Katia Ceraldi aveva posto l'accento proprio sulla mission della Kermess e sul grande impegno messo per rendere speciale anche questo appuntamento del resto la manifestazione è stata pensata proprio per attrarre i visitatori e permettere loro di scoprire le meraviglie e denebrodi la replica in questo fine settimana conclusivo della sagra del suino nero e del fungo porcino parliamo di cronaca ci spostiamo a Catania a detenzione fini di spaccio con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un 38enne che stoccava la droga a San Cristoforo per venderla poi annesima sentiamo i carabinieri di Catania hanno arrestato un 38enne straniero residente nel capoluoghetneo e con precedenti per spaccio di stupefacenti l'uomo utilizzava un appartamento nel quartiere di San Cristoforo come base per stoccare la droga vendendola poi nel quartiere di Nesima è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre consegnava marijuana a un cliente in cambio di 40 euro durante la perquisizione i militari hanno trovato altre 34 dosi di marijuana circa 200 grammi nel vano dello scooter mentre nell'abitazione sono stati trovati ulteriori 350 grammi un bilancino e materiali per il confezionamento arrestato il 38enne ora i domiciliari droghe e denaro sono stati sequestrati pulizia del litorale sabbioso della playa di Catania questa mattina nell'ambito dell'iniziativa Amiamo il mondo diverse tonnellate di rifiuti sono state raccolte separate e avviate in discarica vediamo la spiaggia adiacente all'autorità portuale di Catania l'area sabbiosa prossima al porto liberata da tonnellate di rifiuti grazie all'iniziativa Amiamo il mondo promossa dall'associazione economia circolare dal dipartimento dell'ambiente e struttura territoriale di Catania e dalla clean up Sicili guanti rastrelli e tanta buona volontà da parte di volontari enti aziende diverse associazioni fra i rifiuti rimossi una quantità enorme di bottiglie di vetro imballaggi di plastica metalli che sono stati differenziati e che verranno inviati in discarica particolarmente motivati gli studenti dell'istituto comprensivo San Giorgio di Catania sensibili come tutti i loro coetanei alle tematiche ambientali hanno collaborato le associazioni Salviamo i Boschi Natura Ambiente Pirates of Plastic The Life Walking l'impresa di Martino Group che ha aderito con i propri dipendenti l'Eco Car Ambiente ha provveduto al ritiro dei rifiuti raccolti come vedete la situazione qua nella playa di Catania in questa spiaggia è disastrosa abbiamo raccolto abbiamo dei pesci morti tonnellate e tonnellate di rifiuti abbandonati e mai raccolti vorrei lanciare un appello a chi fa questa azione chi abbandona i rifiuti in una spiaggia la spiaggia è un bene comune bisogna tutelarla tutto quello che noi vediamo soprattutto le plastiche non si distruggono ma si trasformano diventano nano e microplastiche che i pesci quindi mangeranno e ce li troviamo nella catena alimentare separare i rifiuti e conferirli in maniera differenziata in modo da avviarli e riciclo dopo in questo caso si tratta di intervenire dopo che in parte il danno è stato fatto però a maggior ragione è importante in modo da lanciare un messaggio di pulizia si presume che quando in un posto pulito le persone siano meno inclini a sporcare quindi qualsiasi tipo di iniziativa di questo genere è ovviamente la benvenuta il nostro ruolo è supportare chi lodevolmente si mette con a volte anche contro tutto e tutti per ottenere questo tipo di risultato e adesso parliamo di sport nel campionato di serie B di calcio a 5 ostica trasferta per l'Adrano di scena a Barcellona Pozzo di Gotto nel campionato di seconda categoria di calcio a 11 la capolista dranitana affronta la Itna Pedara vediamo sabato di campionato per la serie B di calcio a 5 l'Adrano calcio capolista di scena domani pomeriggio al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto un match che si preannuncia tosto ma alla portata per i ragazzi di Mister Sgroi chiamati a dare seguito alla vittoria di settimana scorsa contro il Mistral Palermo match che sarà giocata a porte chiuse per l'indisponibilità delle tribune del Palalberti calcio d'inizio alle 16 nel campionato nel campionato di seconda categoria la capolista dranitana di scena domani pomeriggio alle 14.30 a San Gregorio contro la Itna Pedara gara che si annuncia rognosa per gli adraniti che però faranno di tutto per vincere e confermarsi in vetta nel weekend torna il campionato di serie C di pallavolo che vedrà i nastri di partenza l'Adrano Volley prossima domenica invece scatta anche la regular season del campionato di seconda divisione di basket Adrano debutterà la tenzostruttura contro il tre torri basket Adesso parliamo di musica si intitola Trust No One il singolo d'esordio di Emilio Chiaramonte in arte Lio giovane cantante catanese che debutta per la prima volta sulla scena musicale vediamo Si intitola Trust No One il singolo di debutto di Emilio Chiaramonte in arte Lio giovane cantante catanese che ha fatto il suo esordio nel panorama musicale italiano con un brano dedicato ai suoi più grandi amici nato grazie alla collaborazione con il produttore Manuel Rosto in arte Maner Trust No One è una dedica fatta ai miei amici fraterni che significa appunto Trust No One tradotto significa non fidarti di nessuno che in questo caso è un paradosso perché io non mi fido di nessuno tecnicamente eccetto appunto i miei amici fraterni Tanti sogni e grandi ambizioni per l'artista 26enne che iniziò a fare musica sin da piccolo quando la nonna gli regalò una pianola e che da quel giorno ha fatto del pianoforte il suo compagno di vita Guè esciva ai modelli di riferimento di Lio che adesso sogna di calcare il palco di Sanremo ho iniziato a fare musica adesso proprio pubblicamente perché fino ad oggi non mi sentivo pronto nel mostrarmi a tutti ho conosciuto il mio produttore tramite messaggi ho fatto ascoltare qualcosa lui ha subito creduto in me e da qui è nato appunto il brano TNO il singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali vanta anche un videoclip già online interamente girato a Catania io valorizzo sempre la mia città farò anche questo perché amo Catania amo la Sicilia e con questo servizio si chiude l'edizione odierna e settimanale di TVA Notizie prima di salutarvi vi ricordo come sempre che potete seguire la nostra informazione anche sul nostro sito internet tvasicilia.it e sui nostri canali social Facebook Youtube Instagram e X da parte mia è tutto grazie per la cortesa attenzione una buona serata e un buon weekend grazie per la cortesa attenzione Grazie a tutti